Allora, oggi parleremo di GDPR 2016, il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Fissate bene questo concetto, protezione dei dati personali. Io mi occupo da oltre 15 anni di seguire imprese, enti pubblici o enti privati, nell'adeguamento alle misure necessarie, alla documentazione necessaria per essere conformi a tutte le materie che trattano, che è il regolamento dei dati personali, che è stato il famoso codice privacy che è in abrogazione. Questa è l'evoluzione normativa della norma. La norma nasce da una direttiva europea del 95-46 che obbligava tutti i Paesi membri ad adottare una legge federazione specifica in materia di protezione dei dati personali, così nacque la 675 del 96. Via via, visto che era inadeguata, è stato prodotto un codice unico, il codice della privacy, che è attualmente in vigore, insieme in contemporanea con il GDPR, con il General Data Protection Regulation, questa l'ho imparata, e che sarà abrogato insieme alla direttiva al 25 maggio del 2018. Perché è una disciplina unica per tutti gli stati membri? Una disciplina unica perché oramai il mondo è globalizzato, oramai i dati non hanno più una geolocalizzazione fisica, ma sono distribuiti in tutto il territorio. Quindi il nuovo regolamento, a differenza del codice 196, si preoccupa non solo di proteggere i dati personali, ma di proteggere le libertà e i diritti fondamentali del cittadino. Quindi in qualunque luogo si trova il cittadino europeo, sia in mezzo al mare, o sia in Francia, in Italia, la società che tratta, l'ente che tratta, il titolare che tratta i suoi dati personali, ha l'obbligo di adeguarsi a tale misura. Ma che temi tratta il regolamento? Sono tutti i temi nuovi alcuni, portabilità dei dati, diritto all'oblio, pricing process, accountability, pricing by design, data breach, misure di sicurezza adeguate, profilazione online, pricing by default. Come vedete sono tutti i temi nuovi. Il principio fondamentale del nuovo regolamento è la consapevolezza. È necessario avere consapevolezza dei dati che vengono trattati. Ed è proprio i dati personali. Oggi tratteremo soltanto alcuni di questi dati, perché altrimenti il tempo che mi hanno dato non basterebbe mai. Posso fare anche per sei ore, parlare di privacy, penso che vi tedierei. Parleremo di sanzioni amministrative elevate, misure di sicurezza adeguate, portabilità, data breach, e privacy impact assessment. Quali sono le principali definizioni del nuovo regolamento? Il nuovo regolamento all'articolo 4 declina una serie di termini di cui spiega il significato. Il significato di dato personale, di trattamento, di pseudo-anonimizzazione, profilazione, di data protection office, valutazione di impatto privacy, violazione dei dati e trattamento trasfrontaliero. Ne cito alcuni. Ma i dati personali, rendetevi conto, che sono il petrolio del futuro. Mentre prima si estraeva, adesso i dati sono disponibili. Ce lo insegnano Google, Facebook, Twitter. Sono tutte realtà che fanno business sui dati personali. Ma cos'è un dato personale? Qualsiasi informazione riguardante la persona fisica è identificata o identificabile anche indirettamente. Non è solo il nome o la carta di identità, il codice fiscale, ma anche la geolocalizzazione è un dato personale. Anche nel filo è un dato personale. L'indirizzo è P, se è unico è un dato personale. I dati nei CUCI sono dati personali. Elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica. Il comportamento sono dati personali. Come vedete, l'ommicomplensività del dato personale prevede un'attenzione veramente alta in merito alla sua protezione. Kaspersky, che conoscete tutti, ha aperto questo negozio. The Data Dollar Store. Lo dice Financial Times. A questo indirizzo, che è piccolo piccolo, ma si ci potrebbe cliccare volendo, corrisponde una pagina Financial Times che stabilisce quanto valgono i propri dati. Se hai figli, se non hai figli, che lavoro fai, se vai in vacanza. Che età hai, che abitudini hai, che orientamento sessuale hai. I miei valgono poco, faccio poche cose. Io valgo 127 dollari a dato. Questo negozio cosa fa, Kaspersky? Ti regala le magliette, le tasse brandizzate. In cambio di screenshot del tuo WhatsApp. Nel Dollar Store ti danno in cambio, usano invece di scambio, i dati personali. Con uno screenshot di WhatsApp ti danno una maglietta del tuo cantante preferito, una tazza se gli fai vedere le mail. Se gli dai il telefono, non so, ti danno tipo un computerino, un computerino, ti danno uno zainetto nuovo, una cosa del genere. Occhio. E' provocatorio, ovviamente. Ma i dati personali sono divisi in dati sensibili, giudiziari e identificativi o comuni. Questo è determinante. Questi, all'articolo 9, sono i dati sensibili. Mi sentite però adesso, giusto? Questi sono i dati giudiziari, quindi l'origine razionale ed etica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche e sindacali. I dati biometrici, ginegiosi, di salute e l'orientamento sessuale. E' chiaro che se io sono iscritto a un partito o un'associazione sindacale o religiosa, quello è un dato sensibile che va tutelato. Perché i dati sensibili potrebbero determinare discriminazione. Condanne penali, la semplice qualità di imputato, sono dati giudiziari. Quindi, i dati personali sono tutti. I dati sensibili è questa quota. I giudiziari, una quota più piccola, questi sono dati comuni. Che vi dicevo all'inizio? Il regolamento si basa sulla protezione dei dati personali. Non parla solo dei sensibili. Non parla solo dei giudiziari. Quindi, quando sento dire, io non ho dei sensibili, non devo adeguarmi o non devo fare nessuna attività, è un errore enorme. Quali sono i riorganizzativi della privacy? Di un organigramma. Titolare, responsabile, interno e esterno, amministratore, incaricato. E adesso DPO. Noi parleremo di questi tre. Il titolare è la persona fisica, è giuridica, è in associazione che stabilisce le politiche di sicurezza e le finalità del trattamento dei dati. È l'ente. Non è la persona fisica, è l'ente. È l'Università di Palermo. È il titolare. È il titolare. Chi è l'amministratore di sistema? È una figura tecnico-professionale dedicata alla gestione e ammotenzione dei sistemi informatici, tecnologici, a cui vengono effettuati i trattamenti e i dati personali. Può essere una persona giuridica, può essere una persona fisica. Ma non è la segretaria. Deve avere requisito tecnico-organizzativi, affidabilità e onorabilità professionale. E avere esperienza e competenza di settore. Anche sul profilo della sicurezza. Non può essere la segretaria. Nulla toglierà le segretarie. Esistono donne veramente bravissime. C'è un dirigente del Garante di Roma, dell'Ufficio del Garante, che è una donna talmente a modo, piccolina, più nero, occhialetti, che gli daresti nessuna competenza da hacker come Lorenzo Faletra. Eppure l'ho vista in azione. È davvero pericoloso. In un incontro specifico, con un'ispezione, doveva... Il cliente aveva un file di Excel, del quale non sapeva chi l'avesse fornito alla domanda diretta del controllo della Guardia di Finanza. È arrivato l'ingegnere, ha preso questo file, ha messo nel suo computerino, sul Face, niente di cosa non è. E ha detto, quando l'ha ricevuto? Da chi l'ha ricevuto? E in che momenti e che dati conteneva? Quindi, i dati personali sono anche i metadati. Occhio! Ma devi avere requisiti tecnologici, deve essere affidabile, deve avere dei... Anticertificatori terzi. Tuff. Una delle cose che manca in tutti i ruoli, in tutte le aziende che abbiamo rilevato, è la registrazione degli accessi. È una misura obbligatoria. Dato che l'amministrazione del sistema è un soggetto con estremi poteri, perché potrebbe accedere a un sistema informatico, giusto, Ninni? Accedere al sistema, commettere un illecito e cancellarne le tracce. Giusto? Se è bravo, sì, dice Ninni. Se è bravo, sì. Come faccio i titolari che sono responsabili in sede civile e legale a tutelarmi? Adottando un sistema di log. E lo dice il garante. Dice, guarda, tu, per tutelarti devi fare così. E devono essere conservati per almeno sei mesi. E l'access log non deve essere solo del sono entrato, sono uscito, come facciamo per gli utenti standard. Per l'amministratore devi dire sono entrato, sono uscito, quando, da dove sono entrato, cosa ho fatto? Deve essere inalterabile, bravo, io l'ho sognato. Completezza e inalterabilità. E qua nascono i problemi. Cos'è il DPO? Anzi, chi è il DPO? Quali sono le caratteristiche? Per adesso spopolano innumerevoli certificazioni, loghi, corsi, tutto quello che volete. Perché questa è la professione del futuro. mio collega dice che il DPO è lo sceriffo dell'azienda. Beh, ci può stare. È designato in funzione alle qualità professionali e alla conoscenza specialistica della normativa. Voi credete che conoscere le casistiche di una norma così complessa bastano 40 ore? O non mi ascoltate o non rispondete? in 40 ore danno certificazioni. Ma quali sono i compiti di questo DPO che tutti parlano? Consulenza, informazione al titolare, agli incaricati e agli interessati. sorvegliare l'applicazione del GDPR cioè lui deve verificare che le misure di sicurezza descritte nella PIA sono state attuate. Qui sta lo sceriffo. Formazione e sensibilizzazione. Deve sensibilizzare il personale su queste attività. Cooperazione e contatto col garante nel caso c'è un'indagine o un'attività ispettiva del garante che si interfaccia con lui ma è allo stesso DPO che in alcuni casi ha l'obbligo di notifica lo vedranno più avanti del garante di una violazione. Ma quale competenze e posizione deve avere? Deve possedere competenze giuridiche informatiche risk management e analisi dei processi. Non è semplice ragazzi. È un bel lavoro ma non è semplice. Mia moglie mi rimprova perché sono professionalmente deviato perché ogni volta che andiamo in un hotel prima di firmare l'informativa io la devo leggere. Ma firma e mi fa ma allora che lavoro faccio? I router sono aperti poi ti racconto un evento capitato l'altro giorno c'è stato un seminario di recente sul GDPR di un industrio di una grossa industria informatica questo lo racconto visto che me l'ha sollecitato Nini Bassetti il venditore il venditore in questione voleva dimostrare che i sistemi erano deboli perché eravamo tutti collegati alla stessa rete wifi cioè guardate io ho i nomi di tutti quelli collegati al telefonino wifi gli ha risposto un esperto un tecnico capace ma il problema non è che noi siamo collegati a wifi il problema è che l'infrastruttura è inutile perché non ha creato VPN separate per ognuno dei collegamenti ah ma significa no il problema non è che sei tu bravo il problema è che l'hotel che è scarso relazione direttamente ai vertici gerarchici del titolare del responsabile io che faccio il DPO non vado a parlare col direttore vado a parlare col presidente deve svolgere i propri compiti in modo autonomo indipendente è ovvio che io dovevo essere indipendente autonomo in termini finanziari economici e non avere ingerenza dall'esterno altrimenti l'attività di controllo come funziona e non devo avere un conflitto di interesse se la funzionaria aziendale della pubblica amministrazione diventa DPO perché non abbiamo a chi farlo fare farlo tu tanto con 40 ore ottieni la certificazione e per me sono a posto ma quando la funzionaria o il funzionario rileva un'anomalia e deve segnalarlo e il dirigente superiore o il presidente dice non hai visto niente non è autonomo è in conflitto di interesse cos'è successo in Bavaria o in Bavaria come si dice voi che state all'estero l'autorità garante bavaressa ha stanzionato con oltre 16.000 euro un'impresa del tedesca che aveva nominato come suo DPO il proprio team manager il garante gli ha detto scusa ma se lui se la canta e lui se la suona come fai a verificare l'applicabilità del regolamento terzo è un soggetto terzo e non in conflitto di interessi l'interessato l'interessato è la persona fisica ok l'interessato è Adriano Bertolino l'interessato è Neil Bassetti Daniele Mondello sono questi siamo tutti noi interessati io come studente io come dipendente io come titolare sono interessato presso un'altra realtà interessati siamo tutti noi cosa significa trattamento questi diritti corrispondono doveri da parte del titolare cosa è trattamento attenzione questo è determinante per capire la portata non solo di quel tipo di dato noi dobbiamo proteggere ma cosa significa trattare il dato qualsiasi operazione insieme di operazioni compiute con senza l'ossiduo di processi automatizzati applicati da atti personali raccolta registrazione registrazione conservazione consultazione quindi consultazione e trattamento comunicazione diffusione e trattamento diffusione sta per pubblicazione senza contezza del numero di soggetti raggiunti cancellazione distruzione e trattamento io ho raccolto io ho raccolto il dato di Adrian Bertonelli ma poi l'ho cancellato ma a te chi ti ha detto di cancellarlo mi serviva i controlli sono le due origini l'origine da parte di segnalazione del garante e l'origine per campioni di analisi da parte dell'ufficio del garante considerate che questo è gratis significa che io se dimostro al garante il nesso causale tu devi dimostrare titolare che hai adottato tutte le misure per prevenire questo danno se ne occupa il garante ma anche il nucleo della guardia di finanza specialmente specificatamente formato erano pochi gli ispettori cosa fare per adempiere il regolamento informativa e consenso valutazione di impatto misura di sicurezza presa di esame e presa di default l'informativa è sempre obbligatoria non esiste non esiste nessuna norma che ti ti esime dal pubblicare da dare l'informativa all'interessato in alcuni casi puoi non raccogliere il consenso ma deve essere sempre pubblicata sul sito web in maniera orale in maniera scritta ma deve essere presente i cartellini di videosorveglianza laddove li vedete mi sentite in fondo laddove li vedete i cartellini di videosorveglianza non sono altro che un'informativa scusami abbiamo ancora 5 minuti abbiamo 5 minuti sono troppo pochi vado avanti l'informativa deve contenere sistemi identificativi e tempi di conservazione le cose importanti quali sono le finalità della raccolta i tempi di conservazione e le modalità di esercizio i diritti il consenso deve essere esplicito per i dati sensibili novità per i servizi online per i minori 16 anni il trattamento è legioso e autorizzato da chi esercita responsabilità genitoriale sotto i 16 anni ci vorrà l'autorizzazione dei genitori uno dei diritti di cui parliamo è il diritto alla portabilità questo è interessante scusami Marcello questo è estremamente interessante per tutti loro farò il mio meglio l'interessato del diritto di ricevere in formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali forniti perché questo diritto nuovo di nuova introduzione uno così io controllo meglio i miei dati se la mia posta elettronica si trova su un gestore di posta Aruba e io voglio spostarla da un'altra parte in un altro gestore il gestore Aruba mi deve dare in maniera agevole senza impedimento il database che devo trasferire a un altro soggetto questo chiaramente promuove la concorrenza tra i titolari tra i titolari della società dell'informazione io do un servizio migliore come il telefonino come il numero di telefono la portability dei dati personali quando si applica quando il trattamento ovviamente è elettronico non può essere altrimenti non deve ledere i diritti di terzi l'estratto conto bancario io non devo redere i diritti di terzi nonostante ci sia il nome del soggetto a cui ho fatto il bonifico e devono essere i dati soltanto forniti dall'interessato quindi come essere conforme sviluppare applicare formati standard interoperabili qui l'open source fa da padrone export import data portability misure di sicurezza andiamo rapidamente le misure di sicurezza devono calcolare quando vengono attuate devono essere adeguate al rischio rilevato per probabilità e gravità e non devono le delle libertà fondamentali quindi cos'è la PIA uno dei documenti principali del nuovo regolamento è un'analisi che viene facoltata prima del trattamento e serve valutare i rischi per libertà e i diritti delle persone fisiche derivanti dal trattamento quando è obbligatoria? non è sempre obbligatoria ma è obbligatoria quando? quando c'è una valutazione sistematica degli aspetti personali relative alle persone quando c'è profilazione online quando c'è un trattamento su larga scala di dati sensibili ai giudiziari quando c'è una sorveglianza sistematica parliamo di tutti i sistemi di biosorveglianza telecamere registrazione degli accessi o quando il garante deciderà di identificare ulteriori misure ma non solo è obbligatorio in questo caso attenzione nel working party 29 nei suoi chiarimenti ha segnalato anche quando viene introdotto una nuova tecnologia che comporta dei rischi anche quando c'è una variazione dei rischi derivate dal cambio delle finalità quindi la PIA nasce da una descrizione dei trattamenti la valutazione necessità e proporzionalità valutazione dei rischi e misure previste per mitigarlo ti devo chiedere di avverti alle conclusioni perché siamo a tempi stretti perché se poi posticipiamo il coffee break se la prendono con te anzi è ufficiale prendetevela con lui se ritardiamo a prendere un caffè sono responsabile allora andiamo avanti la DPA è importante perché serve raggiungere dimostrare la conformità è estremamente determinante andiamo avanti la ok vedete parliamo di misure adeguate il 72% dei data breach sono dati da configurazioni di errori negligenza perdita di dati maggiori cause di data breach sono la mancanza di consapevolezza questi sono i dati che noi conosciamo questi sono i dati che noi non sappiamo che ci sono ma qua attaccano data breach deve essere comunicata al garante entro 72 ore il principio di privacy by design la proiezione di personali deve essere attuata fin dalla progettazione in modo da prevenire possibili rischi le misure suggerite dal garante sono pseudonymizzazione e minimizzazione quindi dati identificativi e dati personali privacy by default vanno a trattare solo i dati necessari alla finalità della raccolta e il sistema deve essere sicuro per sua natura i vantaggi in situazioni di potenziali difetti anomali del software riduzione dei rischi di data breach aumento di affidabilità maggiore consapevolezza e vado alla conclusione in maniera rapida perché nonostante tutto nonostante il nuovo regolamento considerando 10 sostiene che se il paese della comunità ha adottato misure di sicurezza o ha legiferato in maniera più dettagliata su alcuni aspetti e allora possono essere utilizzate queste linee guida o questi provvedimenti il nostro garante di sbizzarrito linee guida sul dossier sanitario posta elettronica dismissione trasferimento a pecchiature via sorveglianza uso dei cookie localizzazione ma nella trasparenza online per la posta elettronica è obbligato non disciplinare io devo informare i miei dipendenti che hanno che trattano strumenti aziendali per scopi aziendali provvedimento dei cookie voi tutti conoscete cosa sono i cookie non vi sto qui a raccontare cos'è sono tipo tecnico di profilazione questi non hanno bisogno di notifica e neanche del consenso questi di profilazione che mi dici sulle conclusioni? che tutto va fatto entro il 25 maggio perché ci sono quattro spicci di sanzioni quattro spicci bastano dico fino a 20 milioni di euro nel caso di una violazione ho il 2% del fatturato concludo così fino a 20 milioni di euro per le imprese ho il 4% mondiale se è superiore il rischio non vale scusate ringraziamo Adriano Benedettolino per il suo intervento di fare intervento di intervento per l'essore e finitata Grazie.